About me working here man, I can't do it no more, I ain't queer and it's doing my... E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale qua Da Liberty City col sole alle 4, quasi 5 del pomeriggio In realtà, qua sono le 11 di sera ma vabbè Ci vediamo per la 14esima missione che in realtà Questa missione è solo la prima parte Perché la seconda l'andremo a ripetere tra 2-3 missioni Giusto per fare chiarezza e quindi adesso faremo solo la prima parte Attenzione a non andare su liconcina blu perché è uno sconosciuto Ma noi andiamo dritti su blog this Esattamente, ho preso un attimo un colpo perché pensavo andassi dallo sconosciuto e folle What's up man? Hey, what's up Troy? Tony inside? No, he's not here yet. Uh, did you talk to him? Who? Tony, about me What about you? About me working here man, I can't do it no more I ain't queer and it's doing my... Who's nickname since 1985 is Gay Tony? Why do you give a fuck? Because I want to be married man, you know, I want to have a nice life I want to picket Vincent Alderney, I want to raise kids, play ball, you know, and look at me Bro, I don't know what to tell you man, Desi's the man of masoning, okay? This is the job we got for you, if you don't like it, fuck off I guess If you do, shut the fuck up and stop being a moron Don't be like that man, you know me I'm an artist, I've got songs in me Maybe if Tony could hear me sing Yeah, thanks I'd be okay here You're the fucking doorman bro, not the cabaret, what's wrong with you? You're real tense man And you used to be cool Hey, Troy, hey, how's business? Luis, come on, let's go, pretty quiet Oh, fantastic, what is wrong with you people? Don't you know a good time when you see one? Jesus, when even the queens don't want to get wrecked, you know this city is turning into a fucking suburb All right, Luis, get in the car, Gracie, sweetheart, in the back Donnie, can I have a work? Gracie, è vero Gracie Let's go Can you take us out to Gracie's house? It's on Babbage's drive Appena riesco alzare Ok, un attimo Che sono No, cazzo, è troppo alto Ok, a posto Potevo girare lì, ma sono un coglione, vabbè No No Invece, è giusto che abbia fatto il giro Omo Nuova parola per definire gli omosessuali Omo It's homo La varietà che ha l'inglese nel chiamare le cose è inimitabile Oh, non è giusto We're paying a visit Shit, don't we got all the problems right now? Come on Now that you mention it, there is another issue That fucking nebbish, the celebinator Oh my god, I just love that guy's vlog Well that guy's vlog don't love us What happened? He's talking shit like it's going out of fashion So what? He thinks he's the only guy with a mouth on the fucking internet? This is something we don't need right now No one comes to our summer party in the Caraways Chill out, bro First of all, the summer's a long way up And second, we shouldn't be having no party in the Caraways With our financial situation This guy could sink us Listen to him, Lou The celebinator is real influential Blacks, bro We'll send him a basket It'll be cool It's fucking black now with these guys We got left off a list somewhere So it's our livelihoods at stake Yo, alright I'll check him out What's his site? I'll send you a link Can you drop us off and go through it now? Ok, oh, beh, qui Dove siamo andati a prendere Gracie con Nico Internet cafe Ho capito in che punto della storia principale siamo Ho capito benissimo Ok, ci siamo Andiamo dentro Vediamo cosa hanno da dirci Anzi, cosa dobbiamo fare Non spuscita mai No, non ci cago sopra Tranquillo Tranquillo In realtà era Nei miei piani Cagarci sopra Adesso che me l'hai detto Non lo è più Love story tra Tony Tony Checca E Luis Lopez Comment Molto cordiale Danni auto Danni auto Danni auto Danni auto Capito E ragazzi qua Oh, fermati Oh, fermati Va, finisci la prima parte di Block This Fammi spostare Fammi spostare Fuori dai coglioni E andiamo verso Frosting on the Cake Sempre per Tony Lasciate like al video Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo per la quindicesima che sarà Frosting on the Cake Fuori dai coglioni Grazie.